Gli ho detto ad esempio togli Toninelli, non è un ministro Toninelli, non è capace Toninelli, ma non perché sia una cattiva persona, però l'hanno tolto adesso. Però mi hanno sembrato, no, Toninelli non si tocca, Toninelli è un genio, Toninelli è un dio, Toninelli è una nostra spina dorsale, era così un genio che l'hanno trombato loro stessi. Quanto meno ho liberato l'Italia da Toninelli, anche se passare da Toninelli alla esperta in conserve di pomodoro De Micheli, non so che passo in avanti rappresenti per le infrastrutture del paese, però facciano, si divertano con il loro giocattolino per qualche tempo, noi vedremo di limitare i loro danni.